Siamo con Pietro Rambuschi, Assessore che ci spiegherà sull'albero di Natale appena messo nuovo, prego. Finalmente Porto Aro ha un albero idoneo diciamo per la sua bellezza, oggi sono felice appunto di vedere anche le luminarie attorno all'albero quindi oggi veramente una giornata particolare, ma non è solo l'albero in quel di Porto Aro, direi che anche le luminarie via Martri, oggi siamo appunto vicini, via Martri sono bellissime, nessuno può dire il contrario, quindi finalmente anche Porto Aro può festeggiare il Natale in modo idoneo. Grazie mille!